Anticipazioni Tempesta d'Amore. Trama puntate. Sabato, 19 marzo 2022. Rosalie, rifiuta fermamente l'offerta di Arian, di iniziare una campagna insieme, contro Christophe per esercitare ulteriore pressione, su di lui. La Kallenberg, decide di portare a termine il suo piano, da sola. Rosalie, lavora ancora più duramente per tenersi fuori, dalle recensioni negative, che la dipingono come un'amministratrice distrettuale, poco attenta. Michael, che la vede impegnarsi notte e giorno, è sempre più preoccupato, per il suo stato precario di salute. Dal momento che Maya, ha perso di vista Shirene al ballo in maschera, il mattino seguente, le chiede scherzosamente se Shirene, ha incontrato il suo principe azzurro. La ragazza la saluta frettolosamente, affermando che il party, è stato molto noioso, e di essersi ritirata a casa subito. Ma mente. Maya, infatti, non ci mette molto a scoprire la verità. Ha baciato un uomo, durante la festa. Chi? Grazie. 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 Grazie.